ciao al mondo della skin care allora oggi vi parlo di patch occhi in particolare di questo qua detoxify della pixi allora è un prodotto che voglio far vedere perché io lo uso da parecchio tempo mi trovo bene mi piace soddisfacente allora è un prodotto che è formulato con ingredienti di origine vegetale quindi all'interno troviamo lampone mirtillo ribes nero aloe vera e anche estratto di olio di ricino in più abbiamo il cocco il cetriolo e l'oro che andrà a nutrire rinforzare e anche lenire il nostro contorno occhi in più abbiamo all'interno l'acido euluronico e cetriolo che andranno a decongestionare e diciamo un po anche a schiarire il nostro contorno occhi allora vi faccio vedere com'è all'interno c'è una spatolina come potete vedere per poter andare a prelevare il prodotto senza metterci le mani dentro quindi senza andare a contaminare tutta la confezione ok quindi tolgo il mio tappo vedete come si presenta allora all'interno troviamo questi patch occhi che sono fatti in idrogel quindi l'andiamo a prelevare uno per uno in questo modo poi lo vado ad applicare quindi la parte più sottile sotto l'occhio e la parte più larga verso l'esterno dell'occhio vedete poi vado a prenderne un altro allora tac tac ecco qua un massaggio un pochettino mi piace allora è molto rinfrescante è molto comodo anche perché si trova in questa confezione come potete vedere questi patch occhi sono imbevuti vedete che c'è un siero e sono completamente immersi dentro a questo questa sostanza allora i patch occhi vanno tenuti in posa almeno per 10 minuti io tante volte lo tengo anche di più perché mi piace sfruttare l'effetto fino alla fine anzi vi dirò che tante volte me lo sono messo la sera prima di andare a dormire poi mi sono addormentata insieme a questi patch occhi non vi preoccupate perché non succede niente al massimo la mattina li troverete che si sono staccati li troverete sul cuscino ecco quindi questi vanno tenuti per una decina di minuti io se ho tempo mi piace tenerli proprio finché non sento che il prodotto sia assorbito del tutto quindi adesso li lascio in posa poi dopo mi ricollego eccomi qua allora i miei dieci minuti sarebbero passati vi voglio dire un'altra cosa la confezione di questi detoxify contiene 60 patch quindi per 30 applicazioni costa intorno a 26 euro da sephora almeno io li ho presi lì e adesso uno mi può dire anche oddio 26 euro magari sono un po tanti in realtà se andate a fare i conti e vedete quello che magari pagate la confezione singola questo è un formato che conviene è un prodotto valido a me piace a un'altra cosa per decongestionare meglio la zona mettete il barattolino in frigo a me destato piace tantissimo lo metto sempre in frigo perché mi piace questa sensazione di freddo di freschezza è come se fosse una terapia d'urto per le nostre occhiaie in più si schiarisce anche l'occhiaia però ecco non pensiamo che mettendo soltanto questo prodotto l'occhiaia migliori subito bisogna insomma lavorarci tanto non soltanto con i peciocchi ma anche con altri prodotti che vi ho già fatto vedere quindi magari andatevi a vedere altri miei video quindi ecco vi ho voluto far vedere questo prodotto perché è buono e buono anche per confronto qualità prezzo d'estate lo utilizzo tantissimo perché come ho detto già prima mi piace questo questa sensazione di freschezza ecco una volta applicato ovviamente sul viso completamente deterso l'avete visto che ero completamente struccata completamente detersa potreste sentire anche un leggero pizzichio dopo l'applicazione non vi spaventate perché vuol dire che gli ingredienti stanno stimolando la microcircolazione del contorno occhi quindi non vi spaventate non è niente di grave quindi ecco oggi io vi ho voluto far vedere questo prodotto spero di avremmi fatto vedere un prodotto interessante e adesso vi faccio vedere una volta tolto con me allora essendo che questi peciocchi sono in hidrogel chi non è abituato a maneggiarli le prime volte potrebbe romperli perché sono veramente una foglia adesso vi faccio vedere ecco vedete il contorno occhi comunque è idratato poi se sentite che sotto rimane del prodotto una volta tolto lo potete massaggiare tranquillamente ok quindi ecco essendo una fogliolina vedete essendo in hidrogel se si maneggia un po più forte vedete potrebbe rovinarsi potrebbe rompersi quindi ecco se è la prima volta che li utilizzate utilizzateli con delicatezza e quindi niente questo è il prodotto che vi ho voluto far vedere oggi spero vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un like se non è piaciuto un unlike iscrivetevi al mio canale vi mando un bacione alla prossima grazie